Una delle pagine purtroppo più tristi del calcio italiano sono passati nove anni dalla morte in campo di Pier Mario Morosini durante la partita di campionato Pescara-Livorno allo Stadio Adriatico il 14 aprile 2012. Eccolo qui Pier Mario Morosini. Al 31esimo del primo tempo del match il giocatore del Livorno si accasciò a terra a causa di un malore improvviso. Morosini tentò di rialzarsi un paio di volte ma l'arresto cardiocircolatorio non gli diede scampo. Venne trasportato d'urgenza in ospedale dove medici e infermieri tentarono di rianimarlo purtroppo senza riuscirci. Il 5 luglio di quell'anno Morosini avrebbe compiuto 26 anni. A un anno esatto dalla sua scomparsa il 14 aprile 2013 la Curva Sud, settore ospiti dello Stadio Adriatico Cornacca di Pescara, è stata a lui intitolata. Tanti, tantissimi messaggi di cordoglio apparsi oggi sui social in ricordo del calciatore. Ve ne leggo uno, lo trovate sull'account ufficiale della Serie B. Ciao Moro, nove anni fa, quel giorno maledetto, tutte le bandiere sventolano insieme per onorare il tuo ricordo. Sarai sempre uno di noi.